La Sindone è un dipinto? Assolutamente no. La Sindone è stata esaminata tramite spettroscopia infrarossa, visibile e ultravioletta, fluorescenza a raggi X, termografia, pirolisi, spettrometria di massa, analisi Raman e test microchimici. L'immagine sindonica non è assolutamente dipinta, né stampata, né scaldata da un bassorilievo o strofinata su una scultura. Inoltre, l'esame della trasformata di Fourier dell'immagine impressa sulla Sindone ha permesso di certificare che questa medesima immagine sindonica non possiede alcuna direzionalità, caratteristica questa che dovrebbe necessariamente essere presente qualora l'immagine impressa sulla Sindone fosse stata dipinta con un pennello. Invece, è scientificamente provato che l'immagine impressa sulla Sindone è dovuta a degradazione per ossidazione e disidratazione delle fibrille superficiali del lino. È una sorta di invecchiamento accelerato della cellulosa delle fibre del lino. Lo stesso effetto che si verifica quando un giornale o appunto un lenzuolo rimane esposto al sole, ovvero alla luce. La presenza occasionale di pigmenti sulla Sindone è dovuta alla pratica delle cosiddette reliquie per contatto. Molti artisti infatti hanno copiato dal vero la Sindone, ed era prassi mettere queste copie a contatto con la Sindone affinché divenissero più venerabili. Le analisi scientifiche effettuate sulla Sindone invece hanno riscontrato la presenza di sangue umano maschile del gruppo AB, lo stesso rilevato nel sudario di Oviedo, nonché nel miracolo eucaristico di Lanciano. La Sindone è un'opera di Leonardo da Vinci? Assolutamente no. Leonardo da Vinci è nato nell'anno 1452, ma i documenti storici certificano che attorno al 1350 la Sindone era nel possesso del cavaliere crociato Jouffrois de Charny, signore delle terre di Liret in Francia. Nonché certificano che nel 1453 la Sindone veniva acquisita dai Savoia per mano del duca Ludovico e sua moglie Anna di Lusignano. Poteva quindi essere stato Leonardo da Vinci a realizzare la Sindone? È la domanda di un ricco, disse Aristotele. È attendibile la datazione al radiocarbonio del 1988 che data la Sindone tra il 1260 e il 1390? Assolutamente no. La datazione al radiocarbonio della Sindone, che si deve considerare un dato sperimentale tra gli altri, il quale deve essere inserito in un quadro multidisciplinare di studi, è stata messa in dubbio in varie pubblicazioni scientifiche per numerosi motivi, fin da subito. Cito a titolo rappresentativo di tutte una recente pubblicazione scientifica su Archeometri del 22 marzo 2019, nella quale sono stati analizzati i dati Grezzi del C14 del 1988. L'esito di queste analisi ha verificato che i dati ottenuti dalla misura del 1988 sono disomogenei al punto tale da non potersi considerare validi, né tantomeno essere considerati la prova conclusiva che la Sindone è medievale. È da riferire invece che tre analisi scientifiche condotte presso l'Università di Padova nel 2013, analisi FTIR, spettroscopia all'infrarosso intrasformata di Fourier, spettroscopia Raman, analisi meccanica multiparametrica, datano la sindone proprio a cavallo dell'epoca di Cristo. Recentissimo poi l'articolo di quattro scienziati del CNR di Bari e uno dell'Università di Padova, pubblicato sulla rivista scientifica Heritage l'11 aprile 2022, il quale riferisce, cito testualmente, il tessuto della Sindone di Torino è molto più antico dei sette secoli proposti dalla datazione al radiocarbonio del 1988. I risultati sperimentali sono compatibili con l'ipotesi che la Sindone di Torino sia una reliquia di duemila anni, come supposto dalla tradizione cristiana. È vero che sulla Sindone sono state trovate tracce di Pollini e terra della Palestina? Assolutamente sì! Sulla Sindone è stata constatata una grande abbondanza di pollini del Medio Oriente che non esistono in Europa. Sulla Sindone sono stati identificati dal botanico Max Fry i pollini di 58 diversi tipi di piante. Di queste 38 crescono a Gerusalemme ma non esistono in Europa e fra queste 13 sono tipiche ed esclusive del deserto vicino a Gerusalemme. Fra le piante più significative c'è lo zigofillum dumosum che cresce soltanto nel sud di Israele, in Giordania occidentale e dal Sinai. Sulla Sindone sono presenti pure le tracce delle spezie funebri profumate usate dagli ebrei nel primo secolo, l'aloe e la mirra. Il genetista Gianni Barcaccia poi, con alcuni colleghi, ha pubblicato che su campioni sindonici sono state trovate cospicue tracce di DNA medio orientale. Sulla Sindone inoltre è stata trovata la presenza di cristalli di aragonite, un tipo di carbonato di calcio con impurezze simili a quelle dell'aragonite trovata nelle grotte di Gerusalemme. Cosa rappresenta l'immagine impressa sulla Sindone? La Sindone è un lenzuolo di lino delle dimensioni di circa 442 cm x 113 cm. Sulla Sindone è impressa l'immagine frontale e dorsale di un uomo morto, il quale è stato sottoposto ad una serie di torture, tra cui una feroce flagellazione con un flagrum romano ed una coronazione di spine, nonché sottoposto ad una crocifissione con chiodi nei polsi e nei piedi. Sulla Sindone inoltre ci sono tracce dovute tanto all'acqua quanto al fuoco. L'incendio avvenuto a Chambery nel 1532 ha provocato sul telo sindonico le principali lesioni. Estremamente evidenti infatti sono le linee carbonizzate che contornano l'immagine dell'uomo della Sindone. Dalle analisi scientifiche risulta che la Sindone ha avvolto certamente un cadavere. La figura di questo cadavere impressa sulla Sindone viene identificata tecnicamente con la menzione uomo della Sindone. Quando nel 1898 la Sindone venne fotografata per la prima volta, si scoprì che l'immagine si comporta come un negativo fotografico. Le analisi scientifiche del progetto di studi denominato STURP sono giunte a questa conclusione. Cito L'immagine della Sindone è quella di una vera forma umana di un uomo flagellato e crocifisso. Non è il prodotto di un artista. La morte dell'uomo della Sindone, sottoposto come detto a torture, ovvero a flagellazione e coronazione di spine, nonché a crocifissione con chiodi nei polsi e nei piedi, è decisamente compatibile con un tipico evento mortale, la rottura del cuore. La causa della morte dell'uomo della Sindone si concilia specificamente e specificamente con un emopericardio post-infartuale. Si arriva a dedurre ciò dall'analisi medico-legale della ferita al fianco destro subita dall'uomo della Sindone, ferita che è stata inferta dopo diverso tempo dalla sua morte. L'analisi della ferita al costato dell'uomo della Sindone, infatti, rileva una immediata fuoriuscita di sangue separato. Parte solida, colore rosso, separata da parte liquida, colore chiaro. E tale fuoriuscita è aggetto sotto pressione, nonché estremamente abbondante. Da notare come tutti questi dettagli appena riferiti richiamino decisamente il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 19, versetto 34. Cito, Ma uno dei soldati, con una lancia, gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Come si è impresa sulla Sindone l'immagine di quest'uomo? Come già detto, rispondendo alla prima domanda, sappiamo cosa sia l'immagine dell'uomo della Sindone. Degradazione per ossidazione e disidratazione delle fibrille superficiali dell'ino. Tuttavia, non sappiamo come si sia formata. L'immagine sindonica, molto probabilmente, così come suffragato da un esperimento scientifico condotto da alcuni fisici dell'Enea di Frascati, sarebbe scaturita da una radiazione ultravioletta direzionale estremamente breve ed estremamente potente. La formazione, ovvero l'origine dell'immagine dell'uomo della Sindone, quindi, andrebbe ricercata con estrema probabilità, precisamente nella luce, dalla luce. La domanda ora sarebbe la seguente. Come ha potuto un cadavere produrre questa degradazione per ossidazione e disidratazione delle fibrille superficiali dell'ino? Ovvero, come ha potuto il cadavere involto nella Sindone sprigionare luce? Come è arrivata la Sindone in Europa? Come già detto, rispondendo alla seconda domanda, attorno al 1350 la Sindone era nel possesso del cavaliere crociato Geoffroy de Charny, signore delle terre di Liret, in Francia. Nel 1453 poi la Sindone passa in capo ai Savoia, i quali la custodiranno prima a Chambéry in Francia e poi nel 1578 la porteranno nella loro nuova capitale, ovvero Torino. Torino che ancora attualmente custodisce la Sindone, la quale dal 1983 è stata donata al Papa pro tempore. Per quel che concerne invece gli anni precedenti, il 1350, il tragitto più verosimile che avrebbe portato la Sindone in Europa sarebbe stato questo. Da Gerusalemme sarebbe stata portata nella città di Edessa, attuale Turchia sud orientale. Fonti letterarie tradizionali e leggendarie riferiscono che tale trasferimento sarebbe avvenuto per opera dell'apostolo Taddeo. Tra il 943 e il 944 la Sindone sarebbe stata portata a Costantinopoli, prelevata dall'esercito bizantino capeggiato dal generale Curcuas. La cosiddetta immagine di Edessa, ovvero il Mandilion, sarebbe stata verosimilmente la Sindone ripiegata in modo da mostrare solo il volto. In occasione del saccheggio di Costantinopoli del 1204 la Sindone sarebbe entrata nel possesso di Auton de la Roche, un nobile borgognone che partecipava alla Quarta Crociata. Con Auton de la Roche la Sindone sarebbe giunta prima ad Atene e poi in Francia. Attorno al 1350 poi, Jean de Vergier, una pronipote di Auton de la Roche sposò Geoffroy de Charny. Jean de Vergier avrebbe portato in dote la Sindone a Geoffroy de Charny. E' un'ipotesi che va tenuta in considerazione. Lo storico Ian Wilson è giunto ad ipotizzare come questo misterioso idolo barbuto dei Templari, il Baphometto, appunto, potesse essere stato, verosimilmente, la Sindone piegata in modo da far vedere solo il volto. Interessante notare come la raffigurazione del cosiddetto Baphometto di Templecomb, volto barbuto dai contorni sfumati, sembri decisamente una chiara raffigurazione di Gesù. Inoltre, la tecnica della sovrapposizione in luce polarizzata, pratica usata in ambito legale per gli identikit, ha riscontrato tra il Baphometto di Templecomb e la Sindone 125 punti di congruenza. Ne sono sufficienti 60 per certificare la sovrapponibilità. Come si è espressa la Chiesa nel corso dei secoli nei riguardi della Sindone? La Chiesa è stata sempre decisa nel considerare la Sindone un'autentica reliquia. Papa Giulio II, nel 1506, approvò la Messa e l'ufficio della Sindone, permettendone il culto pubblico e fissandone la festa al 4 maggio. E venendo ai giorni nostri, San Giovanni Paolo II Papa, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, non hanno mancato di celebrare solennemente la Sindone. E, a proposito di Santi, come non ricordare lo strettissimo legame che hanno avuto con la Sindone San Carlo Borromeo, cardinale e arcivescovo, e San Francesco di Sal, vescovo e dottore della Chiesa. Il primo, nel 1578, si recò a piedi a Torino per venerare la Sindone e sciogliere il voto fatto durante la peste che nel 1576-77 aveva colpito Milano. Il secondo, nato per una grazia chiesta al Signore dalla madre in occasione dell'ostensione del Sacro Telo del 1566, aveva la riproduzione della Sindone dappertutto. Ecco poi quello che c'è scritto sul drappo che protegge la teca che contiene la Sindone nel Duomo di Torino. Tuam Sindonem veneramur Domine et tuam recolimus passionem, cioè veneriamo la tua Sindone, o Signore, e meditiamo sulla tua passione. Chi è l'uomo della Sindone? Dopo quanto abbiamo riferito, sarebbe interessante se, a porre questa domanda, fosse l'uomo della Sindone stesso. Ma voi, chi dite che io sia? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.